Vincere gara 2 per agguantare la Serie A2 non è uno scioglilingua ma la missione della Siai Cortona che questa sera con inizio alle 20.30 ospiterà sul parquet amico di nuovo il Fano per centrare una vittoria bis che significerebbe promozione. Coach Lanci. Sarà una partita altrettanto difficile e tosta come quella che è stata già la partita di andata. Incontreremo una squadra che sicuramente darà tutto quanto quello che ha per portarci a gara 3 alla bella Fano il 25 aprile ma noi abbiamo la consapevolezza di dover sfortare un'opportunità importante per raggiungere quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio della stagione. Siamo consci di dover dare il 150 per cento, di dovercela guadagnare in campo, d'altronde come abbiamo già dimostrato nella partita di andata in cui siamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni che ci si sono presentate anche nel momento o in quei momenti della partita in cui tutto sembrava girare a favore del Fano. Abbiamo voglia di giocarcela al meglio e sono sicuro che usciremo dal campo orgogliosi di quello che abbiamo dato.